inter propiacenza e la terza giornata del campionato juniores berretti con i ragazzi di salvatore cerrone che inseguono la terza vittoria in altre tante partite è un inter che attacca subito dall'inizio con bollini che riesce a vincere un rimpallo poi mette il turbo taglia tutto il campo pallone però poco che riesce a superare il ritorno di difensore il suo mancino viene però parato di piede da spadi ancora inter con bollini che riesce a scappare sulla destra guarda in mezzo arriva mitta chiude dunque il triangolo lungo l'inter ma mitta a botta sicura dal limite dell'area piccola mette clamorosamente fuori la risposta degli ospiti affidata a cauz che scappa sulla sinistra mette il cross basso un rimpallo fa terminare il pallone dalle parti di anno rum e il suo mancino viene controllato da capaccio ancora propria cenza con la bella discesa sulla sinistra di romanini altro sguardo in mezzo poi decide di fare tutto da solo e lo fa benissimo bello il tiro sul secondo palo propria cenza in vantaggio nonostante i tanti tentativi dell'inter in contropiede attacca la squadra emiliana ancora con cauz che riesce a superare episcopo poi fa partire un altro cross basso buona chiusura solo in un primo tempo della retroguardia nera azzurra poi il mancino tentato da visconti viene salvato da granziera la risposta dell'inter arriva ancora una volta con il suo numero 9 attacco di antonini mitta si gira controllo con il destro tiro con il sinistro grande parata ancora una volta di spadi lancio lungo di episcopo a cercare o poco tocco per mitta il pallone si alza solo all'ultimo e ancora una volta la squadra di cerrone va un passo dal gol è un inter che attacca senza paura ma che resta ancora un po' sfortunata mitta entra in aria fa partire il cross o poco finta il tiro col destro poi lo finta ancora va sul sinistro deviazione decisiva della difesa della propria cenza risultato ancora sul 1 a 0 nel secondo tempo di nuovo e sempre solo monologo inter con il cross sul secondo palo carraro che va a botta sicura ma alla fine il gioco è fermo per fallo poco dentro per antonini che prova ad attaccare il lato corto dell'aria di rigore vicino lui c'è bollini alla fine torna fuori da carraro il suo mancino insidioso ancora una volta risponde alla grande spadi e un monologo nerazzurro corsa sulla destra per chi a rion che poi la mette in mezzo bollini rovesciata mitta sul secondo palo è in ritardo di quel tanto che basta per non trovare il pallone trova invece il gol del 2 a 0 il propria cenza con romanini con il suo calcio di punizione leggermente deviato capaccio sfiora soltanto e la propria cenza è clamorosamente in vantaggio per due reti a zero arriva anche la beffa del terzo gol con questo triangolo chiuso ancora da anna rumma dopo lo scambio con visconti inter 0 propria cenza 3 la squadra emiliana allenata da campese è assolutamente cinica l'inter ci riprova ancora con il tiro di lizzola deviato ancora una volta spadi mette fuori in calcio d'angolo solo nel finale arriva il 3 a 1 dell'inter con piscopo che questa volta pesca bene carraro non c'è fallo c'è il gol del 3 a 1 ma è troppo tardi per l'inter che dopo aver trovato diversissime occasioni da gol non riesce però a trovare la vittoria la propria cenza passa 3 a 1 sul campo dei nerazzurri la squadra di cerrone cade dopo due vittorie consecutive la propria cenza invece supera i nerazzurri in classifica prova interchannel a soli 4 euro per 7 giorni e poi sei libero di decidere se abbonarti per acquistare per tutte le informazioni premi il tasto prima fila del tuo telecomando vai su sky.it o chiama all'199 100 200 prova interchannel e poi scegli a presto a presto a presto Grazie a tutti.